Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra video recensione di AlexSapp qui mostreremo come mettere il trucco di boom che era presente prima solo su android anche su dispositivi iOS per prima cosa devo aprire il web e dobbiamo mettere i link che troverete anche in descrizione per prima cosa dobbiamo scaricare iFootbox che è disponibile dal sito originale iFootbox è disponibile per windows e per mac in questo caso abbiamo un computer windows e clicchiamo su download per windows clicchiamo sull'ultima versione v2.6.zip il download subito partirà però noi che faremo dobbiamo scaricare un'altra cosa cioè il vero e proprio trucco di media file dobbiamo cliccare su scarica un kbyte poi andiamo su download e vedremo che questi sono già stati scaricati e questo il trucco che abbiamo scaricato da media file lo passiamo sul desktop e clicchiamo su estraire i file una volta che i file sono stati estratti ci sarà un'altra cartella questa cartella dobbiamo dobbiamo aprirla e dobbiamo trovare un file con scritto b.pu.app.beast che l'abbiamo lasciata sul desktop cacceliamo le vecchie e quando sono state cancellate potrebbero aprire finalmente iFootbox per prima cosa colleghiamo il nostro dispositivo e clicchiamo su iFootbox classic faremo faremo doppio clic su ipad cioè in questo caso abbiamo l'ipad 3 e clicchiamo dopo clicchiamo sulla sua icona poi doppio clic e nelle applicazioni ritroveremo un po facciamo dopo clicc su pu poi doppio clicc su il file che abbiamo scaricato qui in questo caso se voi avete già usato questo il pu troverete un'altra icona che è simile a questa proprio che dobbiamo andare a mettere però dovrete cancellare andremo a mettere questa qui quindi chiudiamo e a questo punto dovrebbe andare sul nostro ipad eccoci ritrovati sul nostro dispositivo per prima cosa apriamolo ecco qui il nostro dispositivo lo dovremo riappiare come vedremo si sta spegnendo e si spegno ora andiamo ad accedere aspettiamo che il dispositivo sia lì dal sugattка e che guarda un attenzione hai 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 ecco qui c'è acceso lo andiamo a sbloppare andiamo sul nostro vu e lo apriamo come vedrete ci sono un sacco di volete vittorio 11 504 mila 29 e livello sarà 5 sono molto sbloccate tante pozioni per esempio questo 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 ce ne sono tantissime potrete già da quando è piccolo farlo diventare grande per oggi tutti ha il riso app